Ciao ragazzi, io sono Red e vi devo delle scuse. Questa settimana, come avete visto, non è uscito il video e in generale neanche nei prossimi giorni uscirà nessun tipo di video appunto con contenuto relativo al software. Purtroppo abbiamo avuto un grave lutto, per così chiamarlo, sono successe delle cose un pochino importanti e quindi abbiamo dovuto appunto gestire queste cose importanti. Il 6mm, come avete visto, non ha ancora riaperto in sede fisica ma solamente con lo store online. Questo vi dovrebbe un po' far capire dove voglio andare a parare. In ogni caso tra qualche giorno uscirà un video che vi spiegherà esattamente cosa è successo e cosa succederà appunto sia a questo canale che in generale a me come persone, eccetera, eccetera. Non mi voglio dilungare troppo, vi ho fatto questo video semplicemente per informarvi e appunto dirvi che cosa sta succedendo. In ogni caso vi consiglio di rimanere sintonizzati sui nostri social che trovate in descrizione perché a breve faremo uscire appunto un video dove vi spieghiamo che cosa succederà. Qui da Red è tutto e stay angry.